Musica Buon pomeriggio a tutti ragazzi e bentornati qui con me su Need for Speed and the Round 2 Sto continuando a pensare a come risolvere un po' questo problema che ho già detto mille volte Della programmazione perché Come, no, mille volte no, forse l'ho detto solo in un video Quindi vabbè lasciatemi perdere però Siamo giunti alla fine della settimana quindi sono abbastanza stanco Poi lunedì ho un esame quindi questo video non può essere troppo lungo Ma nel frattempo vi volevo parlare un po' appunto della programmazione Che così com'è secondo me limita molto Oddio, oddio l'ho fatto girare Limita molto il mio canale nel senso che io potrei portarvi più video Se non avessi la programmazione magari più video di una serie E poi finire una serie e cominciarne un'altra Nel momento in cui ho finito una serie appunto posso già cominciarne una nuova O comunque portare avanti più velocemente le altre Non lo so, ecco, quindi sto pensando seriamente Di togliere la limitazione della programmazione Certo qualcosa lo lascerò fisso Tipo non lo so, le sfide di Budokai potrei lasciarle il martedì Giusto perché tanto quelle lì non è una serie E quindi una sfida a settimana può bastare Viceversa Need for Speed che voglio ormai concluderlo Se non mi ammazzo Vorrevo concluderlo abbastanza in fretta Non voglio portarlo avanti per anni Anzi probabilmente sto già giocando da un anno Ecco questo magari volevo portarlo A più video a settimana Adesso non è che da domani faccio video Solo di Need for Speed Però magari, non lo so Adesso ne faccio due Poi magari non li carico Però nel momento in cui ne faccio due di fila Mi si riducono molto i tempi Nel senso che non devo due volte prendere il PC Accendere il PC Andare su Need for Speed Cioè io sono già sul gioco Ci metto due secondi Lo faccio Continuo dalla settimana Cioè insomma mi costa molto Molto meno farne due di fila Ecco È uguale magari fare test drive Farne fare tutto il campionato E fine Anziché ogni volta prendere e accendere la Playstation Sembra una cavolata Ma insomma comunque ci perdo altri 5 minuti Quindi Prima di tutto vinciamo questa gara Poco ma sicuro Quindi eccomi qua E vado a vincere Fantastico Meglio di così si muore E poi vediamo Adesso ci penso Non è ancora nulla di certo Però Io i cambiamenti Quando decido di farli Li prendo Le decisioni Quando le prendo Le prendo abbastanza in fretta Quindi Non è una cosa che si protrarrà Per altre 3 settimane In cui voi non saprete Quindi Adesso mi prendo ancora Magari questa settimana Per decidere Poi ve lo faccio sapere Perché Insomma Le decisioni Quando Quando le prendo Le prendo Contando che poi faccio un sacco di video Le prendo anche abbastanza in fretta Perché da Dal video di oggi Oh questa gara Aspettate Ah no È nascosta Quanto mi dà È vero Mi dà tanti soldi Però dato che È una gara X street Ed è una gara che io odio Magari Facciamo prima Dove è andata? Ragazzi Non c'è la gara dirappata A me dice che è qua Ah No Ora vedete Sarà qui dentro Guardate Oddio Oddio Quanto era incasinato Quel 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 Coso Vabbè Comunque l'idea era Grossomodo Questa qua Quindi io quello che volevo dire Ve l'ho detto Dato che poi lunedì Ho un esame Direi che Iiii aiuto Ho fatto la boiata Il video di oggi Può anche non durare I soliti 16 minuti Forse oggi finalmente Me lo ricordo E faccio veramente Un video Abbastanza corto Per una volta Penso di riuscire a ricordarmi Un video veramente corto Da 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 7 Oddio ma Che visuale c'ho Che Ho cambiato visual Com'è che si faceva Aspetta No Questo si guarda dietro No C No Oddio Esatto Io sto cambiando visuale Così Come se niente fosse Aspettate No Tieni questo Mi piace Mi piace Derapa Ma non so se sono primo Se posso dire la mia modesta opinione La mia modestissima opinione Dice che secondo me Non sono primo No Sono primo invece Cioè Cambiando 13 visuali Sono comunque primo Mi stampo Vabbè Niente E siamo ancora a giro 1 Tra l'altro Eccolo Giro 2 Iniziato adesso Derapata Vai così Scusate parlo poco Ma Le derapate Sono le gare Che mi piacciono un sacco Ma allo stesso tempo Se fai Un paio di curve Ecco Tipo questa Perdi tutto il vantaggio Che hai Ti stampi contro Oddio No tra l'altro ragazzi Corri Cioè Guardate quanto ho perso Mannaggia i fiori Se questi arrivano al traguardo Io ho 30 secondi Per arrivare al traguardo Fine E basta No Questa era figa Di dirapata Mannaggia Anche questa Fa schifo Eh Sto perdendo un botto Cioè Ok che sono davanti E posso Permettermi di perdere Punti Però Ecco Vedi Mannaggia i trichecchi Mo Io ho 25 secondi Secondo me Se non arrivo In 25 secondi Perdo la gara A prescindere Da 19 Veloce Secondo me la perdo Ve lo dico Secondo me la perdo Secondo me la perdo 10 secondi Cioè La perdo A prescindere Dal fatto che Devo arrivare Corri 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 4 3 Mamma mia Ragazzi Secondo me la perdevo Anche se Avevo più punti Di tutti A prescindere Dai punti Secondo me Se non arrivi A traguardo Perdi Adesso non ne sono sicuro Al 100% Ma secondo me è così Comunque Fa niente Questo è Adesso Volevo fare Quell'altra gara Che va In gamato Nascosta Però non mi ricordo Già più dove è Secondo me Era di qua No No Allora era di là Scusate Io da dove arrivo Bo Mi girato così Si capisce poco No Io arrivo Da sinistra Quindi è per forza Qua Eccola Facciamo questa gara Nascosta Non so perché È un X street Non so perché Mi decido di fare Queste gare X street Ma Boh Vabbè Vediamo La perderò sicuro Quindi no Non lo so Comunque la vostra opinione Come al solito Mi interessa Ragazzi Anche perché siete voi Decidere Avevate deciso voi La programmazione E io così l'ho fatta Per un anno Adesso Potete decidere Se lasciare Invariato Completamente E quindi comunque Le serie Che durano tanto Durano tanto Non ci posso fare niente A quel punto O decidere Per un mix Nel senso che Oddio Decidere il mix Di fare La sfide Sì Sì Vabbè Le sfide I video Che non fanno parte Di una serie Quindi Oddio Questi sono girati Quelli che sono Fattibili Di settimana in settimana Lasciando l'episodio Fisso E quelli che invece Sono a serie Lasciarli a Vabbè Allora sono proprio cretini Non c'è niente da fare Lasciare invece Lasciarmi La possibilità Di cambiare Comunque Decidete voi Come al solito Ma non cambia nulla Il motore Che mette in moto Diciamo Il canale Siete voi Quindi se voi avete scelto Di fare in un modo Lo facciamo in un modo Se voi avete scelto Di fare in un altro modo Lo facciamo in quest'altro modo Cioè Non cambia niente Questa gara però La rifacciamo Perché ovviamente Mi sono stampato I primi due giri Per i primi tre giri 70 volte E quindi La gara l'ho persa Cioè la gara La posso vincere Abbastanza facilmente Però Tipo Saltiamo davanti a questo È meglio Se poi È un muro È un muro Non fa bene Alla macchina Dai Vedi che guadagno Vedi che guadagno Se non faccio Le boiate Eh qui Perdo un po' Perché Loro non so Come diavolo fanno Ma Queste tre curve Le fanno meglio Mannaggia i fiori Eh no Adesso Orca Dai che si stampa Bella lì Oh KB passa in vantaggio Probabilmente Mamma mia Qui ho rischiato Perché lui mi ha girato addosso Arca Qui si è andato largo Sapevo È passato Adesso mi c'entro Sicuro No Oddio Non mi ha centrato E non so il perché Non lo voglio sapere Manteniamo Un profilo basso Eccolo M'han toccato Vabbè però Sono ancora dritto Vai Ultima curva ragazzi Io vi saluto Ci vediamo con i prossimi video Ho vinto Mamma mia ragazzi Che miracolo Non so perché ho voluto Derappare Ma ho vinto Per il miracolo